I dati alla data odierna su Ortona parlano di 32 casi positivi, compresi 5 deceduti. Di questi 32 casi, 16 fanno riferimento alla frazione di Villa Caldare e gli altri 16 tutti sul restante territorio, sia frazioni che centro urbano. Oltre alle decine di persone sottoposte a quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva su tutto il territorio, ma sempre con il maggior numero sulla frazione di Villa Caldare. Per questi motivi, che al fine di ridurre il propagarsi del virus, ho ritenuto opportuno ieri ripresentare istanza al Presidente della Regione Abruzzo, Marsiglio, all'Assessore Verì, al Direttore Generale Shell, di istituzione della zona rossa per la sola frazione di Villa Caldare, oltre che, sempre sulla stessa frazione, una sorveglianza attiva, massiva, con i tamponi. Questa richiesta è avvalorata anche dal fatto che i decessi che ci sono stati, due decessi sul Comune di Crecchio, più i due diarielli, più i nove casi positivi, sempre del Comune di Crecchio, a detta della ASL, fanno riferimento alla genealogia infettiva della frazione di Caldare. Quindi, per queste ragioni, ho ritenuto opportuno presentare questa istanza al fine di limitare al massimo il movimento dei residenti, sia in entrata che in uscita della frazione. Certamente sarà un modo per cercare di distruggere prima possibile questo virus, ma invito nuovamente i cittadini a non uscire di casa, perché solo così potremo tornare prima possibile alla vita normale di ogni giorno.